Allora buonasera a tutti, siamo a Porto Campo del Basket Sotto le Stelle edizione 2014 da Porcari Siamo con la squadra dei Baskin Under the Stars Ragazzi, l'avevo fa serio, allora siamo con la squadra dei Baskin Under the Stars e la loro mascotte Allenatore pure L'allenatore di sera cambierà Consideriamo che quindi l'allenatore è il più serio di tutti, figuriamoci gli altri Allora, sono usciti vittoriosi dalla prima partita, da quello che mi dicono Radio Basket di Corridoio Com'è andata? Impressione a caldo Siamo stati bravi E insomma È andata bene? Abbiamo usato il 100% È la squadra che non l'hai sempre voluto giocare È la squadra che non l'hai sempre voluto giocare Ok, il livello intellettivo è veramente alto Siamo contenti perché alzate il livello del torneo Grazie, molto Saranno altre sorprese, siamo solo all'inizio Ancora lunga, ancora lunga Siamo molto contenti Allora, ambizioni di arrivare alla finale di giovedì? No, noi dobbiamo andare in Sardegna Abbiamo un solo obiettivo Non ho ancora prenotato le vacanze Quindi Bene, perfetto Allora, io vi faccio gli in bocca al lupo a nome di tutta l'organizzazione Ci vediamo sicuramente per le prossime partite E speriamo di vederci giovedì Ok? Ciao ragazzi, grazie Ciao